E ciao a tutti, in questo video vedremo come completare il calderone K Vi informo che sul canale è presente una playlist che raccoglie tutti i calderoni che saranno presenti nel capitolo di Horizon Forbidden West e inoltre troverete anche diverse guide quindi se il video vi sarà d'aiuto o vorrete altre guide comunque mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale e andate a vedere le varie playlist Dentre ciò passiamo a vedere dove si trova questo calderone La posizione esatta è questa, calderone K partendo da est e tornando in direzione ovest questa è la sua locazione come punti di riferimento possiamo anche utilizzare il coro lungo della veglia delle sentinelle oppure il bastione praticamente ad ovest del bastione troverete proprio il calderone K vi avvicino anche la visuale per farvi capire anche la posizione da cui partirà il video proprio da questo rifugio passiamo adesso a vedere come risolvere e come completare questo calderone nel video ovviamente cercherò di saltarvi tutte le parti che riguardano i combattimenti anche perché il video è necessariamente diciamo che ha stretta utilità per il suo completamento ma comunque se avete bisogno di aiuti per i combattimenti che dovrete affrontare ovviamente il primo consiglio se proprio non ce l'ha fatto ragazzi è quello semplicemente di abbassare la difficoltà di gioco che ricordo può essere abbassata e alzata in qualsiasi momento in cui state giocando non ci sarà nessun riavvio il cambiamento sarà immediato se invece volete provare a giocare a difficoltà maggiore magari volete qualche consiglio scrivetelo qua sotto nei commenti detto ciò vi lascio il resto del video spero che sia di aiuto e ricordo ancora una volta se avete bisogno di altri aiuti guide oltre a scrivere nei commenti troverete tutte le playlist qua sul canale Toro 18 Ivo un saluto ragazzi buona visione vi lascio al resto del video preferisco i celermorsi che non possono raggiungermi e le pane creano delle correnti nell'acqua sono dentro troviamo il nucleo e recuperiamo gli overrides quella cassa posso usarla per arrivare alla stragezza così ci dovrei arrivare arrivano la corrente trascina la cassa ecco fatto dovrai riuscire a planare villaggio strapperò un passaggio per il me canta vincere l'acqua la 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 Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. 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 Sì.